bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Kyuder e anche se sono senza voce oggi volevo portarvi degli aggiornamenti di rules of survival ragazzi non vi abbandono mi abbandono la voce ma non vi abbandono voi sì ragazzi sì perché non so se lo state notando ma dietro di me c'è già una fotografia che in realtà è un gameplay della nuova mappa ragazzi quella che troveremo con l'aggiornamento del 31 gennaio di rules of survival so che la state aspettando tutti anche io la sto aspettando con ansia dovremo ancora avere un po di giorni di pazienza per avere questa meravigliosa nuova mappa disponibile come avete visto piena di ponti piena di montagne piena di vallate con un fiume che stiamo vedendo in questo momento la attraversa in mezzo veramente veramente meravigliosa c'è da dire però ragazzi che la mappa non sarà l'unica cosa nuova con l'aggiornamento che arriverà il 31 gennaio inseriranno ragazzi anche dei nuovi veicoli quattro nuovi veicoli per la precisione finalmente verrà ampliato il parco veicoli del gioco e ragazzi ho anche delle fotografie che ci hanno dato direttamente i nostri amici di rules of survival ital official che potete trovare nella pagina facebook che riguardano anche le nuove armi ne stanno inserendo veramente una fucilata ragazzi si vede tanto che il team di netis è molto appassionato a giochi di guerra io noto un'estrema somiglianza all'arsenale disponibile anche in battlefield ve lo ripeto ogni volta ma ogni volta me ne accorgo quando fanno delle aggiunte prima di andare a vedere però le armi non sappiamo ancora ragazzi nessun aggiornamento per quanto per quanto possa riguardare il gameplay i bauli sappiamo che ci sono delle cose nuove ma aspettiamo qualche giorno prima di darvi delle notizie andiamo a vederci assieme una piccola clip ragazzi che fa vedere i nuovi veicoli che verranno introdotti e andiamo a vederla qua ragazzi guardate subito pro deltaplano che spara ragazzi abbiamo finalmente un velivolo guardate ragazzi guardate che roba guardate che roba questo è palesemente un veicolo a motore non sappiamo se uno o due posti sappiamo però che può sparare secondo me due i posti disponibili questo ragazzi è una uno split di un altro aereo che non sappiamo se sia quello nuovo o meno l'overcraft eccolo qua ne avevamo già parlato qui abbiamo un'altra immagine l'overcraft vi ricordo che va sia nell'acqua che nella terra anche questo credo solo a un posto guardate che meraviglia il camion blindato ragazzi tanta roba il super camion blindato da sei posti e con possibilità ovviamente di sparare come vedete da tutti i lati e possiamo vedere ragazzi che questi nuovi veicoli che verranno introdotti andranno sicuramente a dare diciamo una bella corposità al gioco e lo avvicineranno ancora di più alla realtà ragazzi perché diciamoci la verità diciamoci la verità ci mancava proprio avere un bel veicolo che poteva volare un bel camion blindato altro che la macchinetta che sembra l'audi sbrinzata lì in mezzo ai campi ragazzi già tanta tanta roba con questi quattro veicoli ma se state dicendo Waxhuder lo è cacchio stai dicendo solamente veicoli no no ragazzi abbiamo anche come vi avevo già anticipato le fotografie delle nuove armi si sta veramente facendo sempre più piede l'arsenale in rules of survival che sta diventando davvero davvero molto molto vasto vi faccio vedere un'immagine vi faccio vedere un'immagine ragazzi questo si chiama WRO questo sinceramente non lo conosco ragazzi non l'ho mai visto è un fucile sicuramente credo che faccia le veci di un fucile a pompa non so niente perché non l'ho mai visto in nessun videogioco è una roba nuovissima ma prima di andare a vedere le altre armi ragazzi io vi ricordo solo per sostenere la voce di mettere un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto andiamo avanti andiamo avanti vediamo cosa c'è di bello nell'arsenale la UG ragazzi tanta roba la UG ragazzi è un mitragliatore con un caricatore se non sbaglio da 50 colpi una precisione estrema questo già arriva da battlefield 4 tanta tanta roba ragazzi la CR questo ci doveva per forza essere ancora ampliata ulteriormente il comparto dei fucili ragazzi dei mitragliatori la CR un'altra arma a ripetizione con caricatore più esteso credo arrivi addirittura a 60 colpi veramente veramente interessante la N94 ancora di cattiveria gli piacciono proprio gli piacciono proprio ragazzi questi fucilozzi guardate che meraviglia guardate che roba mega caricatore anche per la N94 penso che siamo sempre sui 50 60 colpi potenza di fuoco veramente devastante anche questo arriva dai battlefield e beh e beh questo l'hanno già visto ragazzi l'RPG finalmente lanciarazzi per molti una un'arma che si che stravolgerà troppo il gioco troppo OP a parer mio ragazzi il lanciarazzi ci sta veramente veramente tutto perché è una di quelle armi che in un gioco di guerra non può assolutamente mancare l'MP5 ragazzi una mitraglietta tascabile se volessimo dirla così 50 45 colpi per questo spara velocissimo ragazzi questo in battlefield era allucinante soprattutto una mitraglia da usare nel corpo a corpo molto molto interessante il QB88 ragazzi questo questo non ricordo non credo che sia un mitragliatore credo sia un fucile a pompa ma potrei ma potrei sbagliarmi ragazzi lo ricordo comunque anche questo nel nostro sempre già citato battlefield 4 QB88 nuova arma in arrivo e il Saiga 12 questo si ragazzi che ha un fucile a pompa a ripetizione si chiama Saiga 12 perché al suo interno può contenere ben 12 colpi e spara in maniera automatica cioè noi teniamo premuto come il mitragliatore e lui po 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 via via uno dietro l'altro uno dietro l'altro andiamo a vedere ragazzi le altre due armi che ve l'avevo già mostrati sinceramente la P90 questa le avevamo già vista nello scorso video ragazzi un altro fucile un mitragliatore velocissimo e molto silenzioso questa è un'arma che si usa più che altro quando si fanno i raid è un'arma da giocare silenziata micidiale rimane ferma sul suo posto se la sanno se la sapranno portare bene sono sicuro che la P90 vi farà innamorare l'M110 non lo conosco questo non l'ho mai visto ragazzi sembra secondo me un altro fucile a pompa o è un fucile non l'ho mai visto non saprei proprio dirvi che cosa di che cosa stiamo parlando e il VRO appunto tornando all'inizio che è l'arma che abbiamo già visto per iniziare beh ragazzi direi che abbiamo visto un bel po di cose nuove che verranno introdotte sempre nel nostro meraviglioso rules of survival che ogni settimana ci stupisce per i meravigliosi inserimenti che il team della net is continua continua a rilasciare beh ragazzi io vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale e di fare un salto nella pagina facebook di rules of survival italia noi ci vediamo presto ciao no 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 one will go